Mi sento di dire solamente che per me è stata una giornata veramente emozionante, è la prima volta che mi sento difesa, scuso anche per l'emozione, e soprattutto in un'aula come questa, non mi sono mai sentita difesa neanche ai tempi quando ero ritenuta una vittima, quindi questa giornata per me è stata veramente importante. L'augurio che mi faccio è che questa vicenda si chiuda il prima possibile, è stato un grande incubo, e di riavere indietro la mia vita e di poterla vivere serenamente. Karima, se avessi di fronte il Presidente Berlusconi oggi cosa le diresti? Non sento di dire altro, credo che sia stato detto tutto, sia stato detto anche fin troppo. Il suo avvocato ha detto che lei porta come un marco, come una lettera scarlatta. È evidente ed è agli occhi di tutti, credo, questa cosa qui. E anche la frase voleva essere minima, perché ho sempre avuto la paura che qualsiasi cosa detta da me possa essere comunque strumentalizzata, credo che possiate capire. E adesso, come vivi? Come affronti la tua quotidianità? Scusa. Se è rimasta in buoni rapporti, lo senti ancora oppure no? Dopo questo processo? Grazie. Scusate. Buona giornata.